Un terrorista molto autorevole, alla domanda che fine hanno fatto gli scritti di Moro mai più trovati nel covo di Montenevoso, tra lo scherzoso e il serio, mi ha detto, perché non lo chiedano l'onorevole Andreotti? Magari lo sapessi e li avessi, io non ho assolutamente, perché anche qui ogni tanto ho visto scritto che già è dalla chiesa, aveva delle carte che poi avrebbe dato, è una cosa assolutamente non vera. Dobbiamo tutti essere abbastanza umili per non credersi perfetti e immuni da errori.